Assessore Molinari, oggi la Giunta ha approvato l'aumento delle tariffe dei parcheggi blu a pagamento come saranno questi aumenti e in quale zone li vedremo? Gli aumenti saranno nelle zone Viale Lecco, Piazza Roma, nella zona Stadio e verrà messo a pagamento il cosiddetto parcheggio del Pulesin Dopo un confronto e grazie al lavoro del gruppo di maggioranza, PDL, Autonomisti e Lega abbiamo ritenuto opportuno di mantenere a 1 euro la prima ora mentre aumentare dalla seconda ora Di quanto aumentare? Di 50 centesimi Mentre prima si pensava di aumentare anche la prima ora di 50 centesimi? Prima sì, pensavo di aumentare anche la prima ora Nella zona Stadio, Viale Pueker, verrà portato da 1 euro e 50 a 3 euro la tariffa giornaliera, quindi si potrà parcheggiare tutto il giorno a 3 euro al Pulesin invece si parcheggerà pagando 1 euro e 50 tutto il giorno Quindi questo è, come sappiamo, una manovra che serve sia per recuperare i fondi necessari a coprire il trasporto pubblico sia anche inizia una strada verso la riorganizzazione delle tariffe dei parcheggi pubblici